In un'epoca caratterizzata dalla condivisione delle informazioni e dalla digitalizzazione anche il mondo dell'energia richiede una forte evoluzione. Oggi con lo sviluppo tecnologico associato alle rinnovabili possiamo produrre energia pulita attraverso una rete di tanti piccoli produttori superando così anche il tradizionale modello delle fonti centralizzate. Ognuno di questi utenti, detti prosumer, oltre a produrre l'energia attraverso il proprio impianto fotovoltaico può accumulare o condividere l'energia in eccesso diventando così un vero e proprio nodo della Smart Grid, una rete elettrica intelligente. Come azienda all'avanguardia nell'integrazione di soluzioni digitali, grazie anche alla piattaforma BB Ability, crediamo fortemente in questo progetto di condivisione energetica ed abbiamo trovato in evolvere il partner ideale. Evolvere come più grande comunità energetica di prosumen in Italia vuole continuare a diffondere il modello della generazione distribuita attraverso le Smart Grid. Ogni membro della comunità energetica può produrre l'energia elettrica col proprio impianto fotovoltaico, in parte l'autoconsuma, la può immagazzinare in un sistema di storage e nel prossimo futuro potrà anche condividerla con altri consumatori. Gli utenti tipicamente proprietari di piccoli impianti fotovoltaici possono altresì usufruire della gestione e monitoraggio della produzione attraverso il nostro innovativo sistema per il controllo del consumo e per l'efficienza energetica della casa. Al centro della tecnologia troviamo l'inverter e il sistema di storage di ABV. ABV è un partner estremamente affidabile che sta supportando con grande qualità l'innovazione che stiamo implementando. Un esempio è la tecnologia blockchain per la quale da subito è stato percepito l'elevato potenziale sul mercato. Evolvere in partnership con Prozium ha introdotto la tecnologia blockchain all'interno di Eugenio, il controller smart che monitora e gestisce l'energia prodotta e consumata dai nostri clienti. La blockchain è una tecnologia innovativa per certificare transazioni tra più nodi mediante un processo di validazione configurabile. Una volta approvata la transazione viene memorizzata all'interno del blocco in modo inalterabile. L'inverter di ABV e il sistema di evolvere portano la blockchain nelle case dei prosumer creando un nuovo modello a servizio della generazione energetica distribuita. Con i nostri inverter solari di nuova generazione abbiamo sviluppato una tecnologia sfruttando la blockchain che abilita ad una gestione più efficace dello scambio energetico in una smart grid. Questo, per mezzo anche degli smart contract, consente di gestire dinamicamente le transazioni energetiche tra gli utenti di una energy community in maniera del tutto trasparente. A differenza dei contratti tradizionali che stabiliscono solamente le regole d'ingaggio, gli smart contract in più governano automaticamente le transazioni, garantendo quindi la massima affidabilità e sicurezza. I vantaggi per i nostri clienti si concretizzano in una riduzione dei costi in quanto abbattiamo la complessità e dunque facilitiamo l'adozione di nuovi modelli di business da parte di quei soggetti che si propongono come aggregatori nel panorama delle sorgenti distribuite. La capacità di integrare soluzioni digitali con ABB Ability e la collaborazione con un partner all'avanguardia come Evolvere ci permettono già da oggi di immaginare un futuro energetico diverso e innovativo volto all'efficienza e alla sostenibilità ambientale.